... Incontriamo a quest'evento Mario Lucarelli, è un attore e mi sembra che appunto in tema di arte, cultura, bellezza siamo perfettamente coerenti. Sì, salve, ciao Gianni. Sì, grazie a questa opportunità oggi che il cantiere offre ci sarà anche una performance. Ma sai, al di là della performance è proprio importante stabilire e far riflettere le persone su che cosa possa essere il potere, che cosa possa essere la politica, la politica intesa in un determinato senso. Quindi diciamo è un'opportunità di riflessione anche questa per le persone. Beh, un po' come tutto ciò che è arte, diciamo, tutto ciò che è teatro, tutto ciò che può essere anche un'opera d'arte, tutto ciò che crea e può instillare nelle persone un momento di riflessione è raggiunto l'obiettivo. Perché un momento di riflessione è sempre e comunque un momento di evoluzione per l'anima delle persone. Ti abbiamo visto già un altro evento che abbiamo registrato in cui erano presenti, diciamo, politologi in qualche modo, ci stava Benetto della Vedua, Martelli, Giacchetti, è stata una cosa abbastanza, diciamo, compatos e anche con tutta una serie di riferimenti storici, culturali, ovviamente, perché ognuno portava... Però ti sei destreggiato bene, insomma. Ma mi sono destreggiato bene, praticamente sai, o mi sono fatto la domanda, ma io come sto? No? Come quando vai al bar, no? Vai al bar e ti portano gli amici al bar, ecco ti presento tizio Caio, che cosa prendi? Un zucco di frutta? No, che cosa prendi? Ah, dunque a me va una premuta di... no, succo di pomodoro, grazie. Cioè, te lo devi domandare che cosa ti va veramente in quel momento, anche se stavi pensando ad un'altra cosa, ma tu vuoi rispondere a quella domanda, devi dire la verità. E quindi prima ti devi chiedere che cosa vuoi. In quel caso lì, quando mi dicevi con tutti quei personaggi, io mi sono domandato, ma io come sto? Ma com'è qui? Cioè, questi parlano, ma... è il mio posto questo o non è il mio posto? Grazie a voi sto scomodo, quindi mi metto a riflettere, però devo fare qualche appunto. E quindi si è instaurata una comunicazione, quindi comunque era positivo. Mani, una domanda che forse non c'entra niente, ma approfitto perché tu sei un attore, un commento a questo Oscar per la grande bellezza? Dunque, vabbè, sono contento perché vince, insomma io sono contento perché vince, perché magari indipendentemente, se la gente può pensare può meritarlo o non meritarlo, però magari, che ne so, ad esempio io ho visto i film di Sorrentino, no? Il Divo, a me è piaciuto tantissimo. E anche se questa grande bellezza era un film fatto, dal mio punto di vista, molto bene, però anche nei momenti che mi sono piaciuti di più, tipo con l'ipotetica madre Teresa di Calcutta, tanto per ricominciare, sono dei momenti bellissimi, grande bigazzi con la fotografia. Eravano i momenti, diciamo, più belli, secondo me, del film, ma non mi ha emozionato. Neanche in quei determinati momenti mi ha emozionato, però il film è bello, è da vedere, sono contento che è vinto l'Oscar, però non mi ha emozionato. Perché non mi ha emozionato? Perché è privo di anima. Forse era questo l'obiettivo del regista? Se era questo c'è riuscito, se non era questo ha fatto quello che ha fatto, un grandissimo lavoro, ma senza anima, perché non mi ha emozionato. Questo non toglie che magari ce ne fossero di Sorrentino. Grazie, grazie per questo parere qualificato, grazie ancora. Grazie a tutti.